Nei locali della Sala Monsignore Leonardi, adiacente alla Chiesa Madre di Giarre, l'Associazione Scienze e Vita ha organizzato il primo dei sei incontri che si svolgeranno con regolarità mensile fino al mese di maggio. Il tema affrontato in questo primo incontro ha riguardato l'ecologia umana e la libertà. A introdurre i lavori in una sala gremita di persone comune e di professionisti è stato padre Daniele Raciti, membro dell'Associazione, che ha spiegato e approfondito il termine di ecologia umana con riferimento a quanto detto da Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. L'ecologia umana, ha spiegato padre Raciti, mette al centro del creato l'uomo, quest'ultimo salvaguardando il creato salvaguarda se stesso. Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Aceriale, relatore dell'incontro, ha infine descritto il tema dell'ecologia umana con particolare riferimento all'enciclica di Papa Francesco, mentre il ginecologo Salvo Mauro ha trattato il tema nel suo aspetto squisitamente medico. Il prossimo incontro si svolgerà il 21 gennaio prossimo, dove si affronterà il tema della vita matrimoniale.